Sei un frontaliere e tutti i mesi cambi il tuo stipendio da franchi svizzeri a euro? In questo video ti faremo vedere tutti i costi nascosti dei cambio valuta. Queste cose che vedremo mi capita di vederle, di parlarne quando magari faccio l'aperitivo, mi incontro con dei miei amici che magari mi fanno delle domande che io ritengo siano estremamente banali, in realtà poi mi rendo conto che se magari una persona di lavoro fa l'anestesista probabilmente è super esperto su quelle che sono le materie mediche, ma magari su tematiche legate al cambio di valuta a qualche lacuna. E quindi è bello secondo me in questa fase andare a vedere tutta una serie di cose che ci possono permettere di risparmiare un po' di soldi e vedrete che i soldi che si possono risparmiare sono veramente tanti. In buona sostanza andremo a vedere 5 tematiche fondamentali che andremo poi a sviscerare, ovvero quanto costa inviare denaro direttamente sul mio conto in Italia, è conveniente pagare delle spese in euro utilizzando una carta di credito o debito in franchi svizzeri e vedremo proprio degli esempi concreti. Quanto costa mantenere un conto in valuta estera, ad esempio in franchi, in Italia o in un altro paese, Francia, Germania, e quanto costa fare un bonifico dalla Svizzera all'Italia in franchi, altra cosa assolutamente non banale. Quanto costa cambiare i contanti presso gli uffici cambio tradizionali, poi l'ultima cosa è il costo di cambiare con le più famose app finanziarie, sempre lo stesso cambia nel tempo, vedremo insomma come capire esattamente come funzionano le principali app finanziarie rispetto a cambio a valute e quella che è l'offerta diciamo dei principali intermediari. Da ultimo ci sarà una cosa molto interessante perché andremo a vedere quelle che sono le promozioni in atto. Partiamo con la prima slide, Filippo. Quanto costa inviare denaro direttamente sul mio conto in Italia? Ci sono tantissime persone che ancora oggi inviano denaro dal proprio conto svizzera a quello italiano. Prima a spiegare questo concetto. Io ho il conto per esempio in post finance in Svizzera, ho il conto in Italia presso banca intesa, ricevo lo stipendio in post finance in franchi, facciamo finta 3.000 franchi, invio questi 3.000 franchi sul mio conto italiano. Cosa succede? Oltre a pagare il bonifico e mandare i soldi direttamente sul conto italiano, e lo vi assicuro che io conosco almeno 15 persone che prima di passare al nostro servizio facevano così. La banca italiana mi converte il denaro e io mi trovo gli euro sul conto corrente. Ecco, questo metodo che molte persone pensano sia gratuito, dice tanto la banca mi fa il cambio, è in realtà il più costoso che esista. La banca mi farà un cambio che può essere nell'ordine dei 2-3 punti percentuali. Facciamo finta di guadagnare 100 franchi, di ogni 100 franchi di stipendio, inviando i soldi in questo modo, prendete 3 franchi del vostro stipendio e li regalate alla banca, se non utilizzate appunto il servizio di cambio ottimo. Inoltre, si farà pagare delle commissioni di incasso, soprattutto, questo non avviene con tutte le banche, se vogliamo essere trasparenti, se avete le primarie banche intese, ogni credit, eccetera, eccetera, questo normalmente non succede. Ma magari con banche più piccole, senza andare a fare nomi, ma i classici crediti cooperativi, cose di questo tipo, potrebbe esserci la necessità di passare presso una banca intermediaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari la vostra banca svizzera non è direttamente collegata con questa piccola banca sul territorio italiano, e quindi evidentemente ci sarà una banca intermediaria, che ovviamente non lavorerà gratis. Pensate che su uno stipendio medio-basso, quindi su uno stipendio, facciamo quelli che possono essere i minimi garantiti per legge, con un trasferimento di questo tipo, si possono perdere anche 70, 80 o anche di più euro, ogni volta che si cambiano i soldi. Ovviamente noi abbiamo dato come costo di questo tipo di operazione di cambio, un 70 euro indicativi, giustamente come hai accennato, si può spendere anche tanto di più. Io, all'inizio della mia carriera professionale, sono stato purtroppo vittima di questo tipo di soluzione molto costosa. Ragioniamo su uno stipendio di 5.000 franchi. Se noi cambiamo 5.000 franchi e paghiamo il 3% di commissione, sono 150 franchi, facciamo finta che ci sia una banca intermediaria, potrebbe costarci questa transazione 160 euro. Andate al ristorante due volte con vostra moglie. Avete un marito, due volte con vostro marito. Dipende quanto famiglia avete, però due volte ci stanno. Andiamo sul secondo tema, facciamo proprio dei casi concreti. È conveniente pagare delle spese in euro utilizzando una carta di credito debito, in franchi svizzeri. Qui devo dire che questo errore io lo vedo quando sono nelle casse, diciamo, dei vari supermercati e soprattutto i residenti in Svizzera o gli svizzeri, perché cambiavano punto, effettivamente serve sia lavoratori frontitalieri, ma anche svizzeri che vanno in Italia per fare la spesa, per comprare beni e servizi, eccetera, eccetera. Adesso faremo un esempio del supermercato, ma ovviamente ce ne sono tanti altri di esempi, perché un esempio potrebbe essere l'affitto di qualcosa, dei vestiti, diciamo, spese in generale fatte col POS. Ma parliamo di supermercati che è proprio la casistica più semplice, S. Lunga, Iperal, Bennett e quant'altro, che sono evidentemente pieni di targhe svizzere. Quando andate nel parcheggio le vedete. Tantissime persone, mi è capitato appunto di vederle in fila prima di me, pagano con la carta, diciamo un nome a caso, di UBS, ma piuttosto che di un'altra banca svizzera, in franchi direttamente in cassa. La conversione di questa transazione viene fatta dalla banca emittente e spesso, oltre allo spread, quindi voi pensate che sia gratis questa conversione, in realtà non è gratis, ma si paga, viene applicata un'ulteriore commissione che va dal 2 al 3% dell'importo speso. Quindi ci sono due commissioni. La commissione determinata dallo spread, quindi dal tasso di cambio non conveniente che vi viene fatto. Oltre a questo c'è una conversione ulteriore in termini commissionali. Vi faccio un esempio, a me capita anche a noi come azienda di comprare dei prodotti in dollari, dei servizi in dollari. Noi abbiamo carte in euro e in franchi, come ditta, sui prodotti in dollari vediamo che appunto ci viene caricato questo 2-3%. È evidente che su importi molto piccoli cambia poco, ma se uno già inizia a fare una spesa da 200-150 euro è capace che solo su quella spesa buttate 10 euro, 12 euro e la spesa la fate più volte. Quindi pensate quanto potreste risparmiare ad avere per esempio una prepagata in euro. Qui bisogna distinguere il fatto che nell'utilizzare la carta tu coinvolgi diversi enti, diverse istituzioni. Quella che emette la carta col circuito su cui gira la carta e quindi le conosciamo e la banca. Quindi stai coinvolgendo diverse parti, però anche il supermercato, eccetera, e necessariamente tante parti coinvolte vuol dire costi. Certo, consiglio operativo. Usate carte in euro in Italia e carte franchi in Svizzera e cambiate i soldi. Con questo l'abbiamo aggiunto, però il tema vero è questo, che non tutti lo sanno, ma all'interno del back office, diciamo del nostro sito, voi potete mettere più IBAN. Quindi se volete potete andare a inserire una carta prepagata con IBAN, quindi un contocarta, che viene chiamato così, sul quale magari caricare i soldi per le piccole spese. Faccio un esempio, nel mio caso personale, io ho un conto in Italia presso Fineco Banca che posso ricaricare tranquillamente, ma posso inserire anche delle coordinate bancarie di una Postepay o di una Revolut, per esempio, io ho anche la Revolut, e posso andare a ricaricare la mia Revolut tramite il servizio cambiavalute.ch. Faccio casistiche pratiche di me stesso, prendo soldi dal mio conto BS, li invio a cambiavalute e posso caricarmi la mia carta Revolut, che posso poi utilizzare in euro in Italia per fare la spesa, la benzina. Questo è un altro bellissimo tema, secondo me, che va approfondito, che è quanto costa mantenere un conto in valuta estera, ad esempio, in franchi, in Italia e quanto costa fare un bonifico dalla Svizzera all'Italia in franchi. Questo è un tema che mi è stato sollevato più e più volte. Alcune persone mi dicevano sì ma la mia banca ha il conto in valuta estera, io mi invio i franchi svizzeri e poi mi ricambio con la mia banca. Si può fare, non è vietato fare una cosa di questo tipo. Tuttavia, molte persone sono convinte che la soluzione migliore sia quella di avere un conto in franchi in Italia e diverse primarie banche, soprattutto online, lo offrono. La verità è che questo conto non è gratis. Pensate di dover pagare 5-6 franchi e poi vediamo al mese per avere questo conto, se non di più. Se paghiamo 6 franchi al mese noi lasciamo 70 franchi all'anno alla banca oltre a tutto quello che gli lasciamo. In più i soldi glieli dobbiamo mandare. Quindi, il problema è che questi conti in valuta hanno un costo e l'abbiamo visto. Ma inviare franchi in Italia, ricordiamoci che inviare franchi non è come inviare euro su euro. C'è una commissione che ci applicano perché andiamo a mandarli fuori dalla Svizzera e li mandiamo per esempio in Italia. Questo su questo Filippo sicuramente è più competente. Io posso dire che ho una radicata banca svizzera piuttosto nota, non ho solo UBS, questa mi chiede 12 franchi ogni volta che io invio i soldi sul mio conto italiano in franchi. 12 franchi a bonifico vuol dire che se faccio 12 bonifici all'anno perché dicevo 12 volte lo stipendio pagherò 150 franchi all'anno solo di spese bancarie. Volevo giusto aggiungere una precisazione giustamente tu hai detto Henry inviare franchi in Italia non è come inviare euro su euro. Questo perché la Svizzera tutti lo sappiamo sulla valuta di corso legale del franco svizzero. La Svizzera però partecipa al circuito SEPA quindi le banche svizzere partecipano al circuito SEPA quindi da un certo punto di vista inviare euro dalla Svizzera verso l'Europa in questo caso l'Italia è più agevole nonostante i costi ma è più agevole. Sul franco svizzero invece è tutto un altro circuito ed è per questa ragione che spesso capita che ci siano dei costi notevoli di trasferimento per il bonifico estero della valuta nazionale verso l'Europa. Ecco una cosa importantissima devo dire la verità io avevo guardato le condizioni che venivano applicate da molte di queste banche online tra le più famose e una volta effettivamente anche per favorire quelli che erano i servizi di trading vi erano delle condizioni estremamente favorevoli per il cambio di valuta queste condizioni soprattutto negli ultimo anno secondo me forse anno e mezzo sono peggiorate in maniera significativa qui abbiamo un estratto di una ma non pensiate che le altre banche siano differenti che proprio ci fa vedere che se addirittura lasciamo più di 5.000 franchi quindi non un milione di franchi questo conto può costare anche 20 franchi al mese e il tasso di mantenimento in termini diciamo di spread scusate se si va a cambiare solo di 43 punti base durante la settimana e di 65 punti base circa nel weekend una cosa a cui tengo parecchio la commissione che applica cambiavalute.ch non cambia diciamo il nostro markup cambia magari il prezzo il feed che riceviamo ma il nostro markup non cambia tra lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì e weekend o le festività tra l'altro aggiungo che soprattutto recentemente vista l'esigenza delle persone di ricevere i soldi Filippo è vero che abbiamo deciso di mantenere aperto l'ufficio nei giorni di banca aperta anche se è festa giusto? assolutamente sì lo scorso primo novembre noi eravamo aperti abbiamo eseguito i cambi in maniera regolare come un qualsiasi altro giorno lavorativo ci teniamo a tenere comunque alta la qualità complessiva del servizio non so chi conosce il nostro background però ci tengo a fare due parole su questo come cambiavalute.ch abbiamo tre fiduciari cambisti all'interno della struttura quindi diciamo che siamo riconosciuti anche dal cantone proprio per quelle che sono le competenze che abbiamo maturato negli anni e quindi oggi voglio anche fare un po' di education per spiegare alcune tematiche che secondo me sono assolutamente fondamentali molti ci chiedono perché cambiavalute costa di meno perché siete così efficienti e soprattutto questo secondo me è fondamentale come tema da approfondire perché uno deve avere chiarezza tante persone dicono vabbè ma io vado al baracchino tradizionale cambio faccio in fretta e mi fa un ottimo cambio mi fa un ottimo tasso tenete presente che non può essere così i cambi tradizionali non possono essere più convenienti di noi perché guardate le domande che ci siamo fatti pensiamo secondo voi l'approvvigionamento di contante è gratis cosa è l'approvvigionamento di contante quando un cambio fisico vi deve dare gli euro perché voi li portate i franchi sostanzialmente che cosa deve essere successo che un portavalore ha preso i biglietti fisici è andata in una banca specifica banca stato quella che rifornisce tutti diciamo gli uffici cambi e abbia portato questi soldi fisicamente all'ufficio fisico poi ci sono le persone che ci lavorano e voi direte ma anche cambiavalute a persone che ci lavorano certo però la nostra è un'azienda strutturata che fa tante altre cose quindi pensate ai costi che noi possiamo avere come azienda la revisione il commercialista sono tutti i costi che noi andiamo a sprettare su altri tipi di attività perché siamo estremamente diversificati abbiamo una parte editoriale eccetera eccetera quindi non è che paghiamo due affitti due commercialisti eccetera eccetera per esempio Filippo si occupa anche della contabilità del gruppo quindi diciamo riusciamo a ottimizzare è come se all'interno di un negozio di giocattoli noi mettessimo un corner di cioccolatini quindi diciamo che i nostri costi fissi sostanzialmente sono quelli pensate che solo l'approvvigionamento di contante quindi portare banconote da chi le fornisce al cambio fisico ha un costo di 50 basis point quindi dello 0,50% circa che è di più di quello che noi applichiamo come prezzo finito è evidente che solo di costi fissi ce ne sono molti di più l'altra cosa che tutti quanti dimenticano che secondo me non è per niente banale è che noi possiamo avere delle condizioni più competitive perché il rischio valutario che noi abbiamo è molto più basso se io devo comprare gli euro prima perché devo già averli nell'ufficio cambio e poi darli a voi sono esposto al rischio di cambio come cambio fisico per tutto il tempo in cui questi soldi rimangono nell'ufficio cambi e questo può avvenire che rimangano per diversi giorni perché immaginate che ve li porti il venerdì poi passa il sabato la domenica il lunedì pomeriggio io li do via magari o il martedì o magari stimo male quello che è il volume che posso avere quindi tutto questo rischio valutario di avere valuta in pancia com'è che si mitiga? vendendo di fatto gli euro a un prezzo più alto quindi facendo pagare di più all'utente finale questo è un corso che noi non abbiamo perché noi lavorando in maniera elettronica noi riusciamo addirittura a coprire i cambi del weekend già il venerdì andando ad acquistare valuta in attesa che poi arrivino poi i nostri franchi lunedì mattina i costi fissi che noi abbiamo sono evidentemente minori poi attenzione perché il cambio fisico in realtà deve anche fare delle transazioni di cambio pensate che secondo quale che sono le nostre stime noi siamo il primo intermediario diciamo in canton ticino questo significa che abbiamo delle condizioni proprio per cambiare con i primari istituti bancari e con i primari intermediari non solo bancari ma intermediari specializzati in questo tipo di attività che sono per forza di cose migliori perché cambiavalute.ch oggi cambia probabilmente 15 o 20 volte quello che cambia un ufficio fisico ed è quindi evidente che ha dei prezzi che sono migliori verissimo se posso aggiungere una cosa Harry sempre per il discorso che fai tu ovvero di splittare i costi di suddividere di allocare il costo su più diciamo centri di business da noi c'è anche da ragazzi da dir la verità che riprendendo l'ultima frase che potete leggere su questa slide il cambio digitale è sicuramente la strada del futuro e con noi lo è già presente perché in termini di capacità di servizio un ufficio cambio che voi vedete vicino al benzinaio nel benzinaio oppure in piazza in città ha dei limiti proprio della capacità produttiva mi spiego quante persone puoi servire ogni minuto non è che puoi dar retta a 10-15 persone tutte insieme col digitale i flussi possono essere gestiti in maniera molto più agevole e se ne possono gestire molti ma molti di più contemporaneamente quindi anche questo è un motivo in più che giustifica la nostra capacità di offrire un prezzo sul prodotto cambio franco euro molto molto buono una cosa importante soprattutto se lavorate magari in ditte e vi capita di parlare con chi fa l'approvvigionamento magari all'estero in dollari offriamo anche i dollari se appunto comprate vendete vedete la persona che se ne occupa noi non abbiamo nessuna difficoltà ad offrirvi condizioni ottime come quelle che trovate sul sito anche per cambi di una certa entità quindi non solo il cambio dello stipendio da 3, 4, 5, 7 mila franchi ma tranquillamente possiamo servire le aziende per fare cambi da 600, 800 1 milione 2 milioni a singola transazione non abbiamo nessun problema a gestire questo tipo di transazioni siano esse in euro franchi o dollari concludo questo piccolo passaggio sul tema della rapidità sicurezza e comodità il mondo sta andando in una direzione noi questo lo vediamo perché lavoriamo con i principali istituti di trasparenza e tracciabilità quindi prima o poi quando andrete a versare i vostri contanti cambiati presso l'ufficio tradizionale in banca vi chiederanno dove li hai presi cosa hai fatto eccetera 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 con una transazione di questo tipo con le fiche di cambio che trovate all'interno della vostra area personale avete tutto quanto già tra virgolette conservato e questo è un gran vantaggio pensate adesso che fa freddo piove voi dovete prendere la vostra macchina andare nella banca svizzera prelevare i soldi andare dal benzinaio dargli i franchi vi danno gli euro magari avete il mutuo quindi dovete andare nella banca italiana a versare i soldi cioè pensate quanto costa tutta questa perdita di tempo io vi do un consiglio e vi dico come faccio io io il cambio dei soldi normalmente lo faccio la domenica sera entro nel sistema faccio il cambio la domenica sera metto dentro il bonifico ovviamente lunedì mattina alle 7 UBS processa il mio pagamento quindi Filippo e il suo team vedono questa transazione alle 8 del mattino e subito mi eseguono gli euro normalmente visto che io ho primarie banche anche in Italia mi arrivano qualche ora dopo alle 2 del pomeriggio cose così quindi di fatto processo tutto il mio cambio in mezza giornata soprattutto se lo faccio nel weekend o la sera andiamo avanti andiamo su un tema secondo me super interessante che è quello delle app finanziarie che sono tanto in voga allora innanzitutto c'è da dire che tutte le persone residenti di Svizzeri hanno la Revolute vi diamo una novità noi possiamo caricare le vostre carte Revolute quindi se dovete caricare carte con IBAN per esempio la Revolute noi possiamo farlo quindi confermo e noi possiamo caricarlo poi tantissime persone che usano le più comuni app di pagamento sono convinti che offrono il miglior tasso di cambio a costo zero era così una volta non è più così e soprattutto alcune hanno limitazioni hai un buon tasso fino a un tot che spesso è molto poco quello che vi consigliamo di fare e magari di farlo vedere al vostro amico al vostro vicino di banco al lavoro che dice ah ma io carico così io faccio così parlate di questi temi che anche magari quando fate l'aperitio sono temi sono temi interessanti ma controllate sempre quanto vi offrono per i vostri franchi e viceversa qui abbiamo fatto una comparazione proprio ieri l'abbiamo fatta io non voglio fare nomi ma ho preso alcune delle app o conti bancari tra i più noti tra i più utilizzati in Svizzera e in generale dal lavoratore frontaliero innanzitutto vi voglio far notare che per esempio su questa nota banca svizzera compare il comprare quindi viene un tasso molto molto più favorevole e ovviamente è sbagliato dovete metterlo su vendere perché voi cosa fate vendete i franchi svizzeri per comprare gli euro quindi mi raccomando questo è molto importante perché se no sembra che il tasso offerto sia estremamente buono in realtà è il tasso inverso a quello che serve a voi la seconda casistica invece è tra virgolette più trasparente e superiore al saldo vedete che io non ce li ho i franchi su questa app perché non ce li ho perché me li cambio con cambiavalute che è la terza opzione quindi se mi servono gli euro io cambio con cambiavalute e me li metto su questa popolare app di cui non voglio fare il nome però quello che è importante è che su un cambio di 3000 franchi con questa popolare realtà 3000 franchi mi danno 3058 euro caso 2 mando 3000 franchi o meglio cambio all'interno dell'app 3000 franchi mi danno 3084 euro caso 3 mando 3000 franchi mi danno 3100 euro vi faccio notare che sono tutte fatte dal mio cellulare più o meno a un minuto di distanza l'uno dall'altro così vedete in totale trasparenza quindi abbiamo la sezione delle domande e delle risposte che vi esatto a scriverci se ci sono delle richieste delle domande in particolare fatevi sapere se posso se posso farti una domanda che mi ha fatto un amico un po' maliziosa mi dice sì però anche voi siete un intermediario anche voi non lavorate gratis verissimo la questione è che noi siamo strutturati per fare questo Enrico e tutti gli altri miei colleghi hanno decenni di esperienza in ambito finanziario e soprattutto noi lavoriamo su dei volumi come ha detto Enrico prima siamo il primo fornitore di cambi in Ticino per volumi cambiati riusciamo quindi ad avere delle condizioni agevolate per fornire lo stesso servizio che altri non possono avere vi voglio ricordare quelle che sono le promozioni attive in modo tale che così ne possiate parlare durante la pausa pranzo con i vostri colleghi due promozioni se ci presentate un'azienda ci potete ovviamente contattare poi vi lasciamo tutti i nostri riferimenti al netto che li trovate sul sito quindi è molto semplice contattarci ogni azienda che ci viene presentata quindi facciamo finta io lavoro in una carrozzeria se presento la carrozzeria che deve comprare i pezzi delle Mercedes in Germania per esempio ti diamo 500 franchi quindi per conoscere le nuove aziende perché ovviamente cambiano molto di più per invece le persone fisiche quindi il vostro collega vi ricordiamo che ci sono 25 euro in regalo attenzione non per un amico ma per tutti gli amici che vorrete presentare per voi e per lui hai fatto bene ricordarlo Henry perché esempio pratico se io invito 10 amici e questi cambiano ricevo 250 euro 25 euro per amico invitato esatto vi ricordo che all'interno appunto della sezione del sito avete richiedi un nuovo cambio lo vedete qui qui c'è invita i tuoi amici e guadagna cliccando su questo pulsante andate all'interno di quest'altra sezione e qui avete la possibilità di condividere il QR code condividere su whatsapp che è comodissimo questo funziona con due tasti io che sono diciamo un po' avverso alla tecnologia tecnicamente che cosa faccio clicco e condividi su whatsapp e mando il link devo dire che il mese scorso hai guadagnato dai hai avuto gli amici che si sono iscritti e hai guadagnato ho guadagnato sostanzialmente prendi condividi su whatsapp e mandi se no c'è il link che potete mandare per email o il QR code se proprio proprio volete essere tradizionalisti potete fare in modo che il vostro amico cominci a registrarsi sul sito l'ultimo campo da compilare è proprio il referral code promo code gli indicate il vostro promo code che vedete nella vostra riservata e quell'amico sarà presentato da voi anche quando fate il cambio avete già il vostro codice vi faccio vedere appunto che cliccando su questo codice questo lo potete inviare lo potete condividere lo potete anche condividere nei social o nei gruppi facebook e dice guarda io utilizzo questo servizio se fai così ci danno 25 euro a me e 25 euro a te noi siamo ben felici di pagarli tanto spendiamo poco in pubblicità preferiamo che il passaparola sia la nostra fonte principale di clienti pensate che la stragrande maggioranza dei nostri clienti arriva per il tramite del passaparola ricordatevi che anche l'amico invitato poi potrà invitare quindi anche lui a sua volta potrà invitare altre persone guadagnare altri 25 euro per ogni amico che ci presenterà ragazzi qui prima vi muovete a mandare via whatsapp il vostro codice meglio è perché lo facciamo solo ovviamente per i nuovi clienti quindi il primo che si muove è quello che si accomoda in buona sostanza se non lo fate voi lo farà il vostro vicino di banco che sicuramente già cambia con noi perché serviamo una vastissima platea di lavoratori che appunto lavorano in Svizzera io so di amici che cambiano con noi che magari di fronte a loro hanno un collega che non cambia con noi e tutti i giorni confrontano fai vedere il tuo tasso io faccio così però è meglio cambia valute ragazzi provare per credere siamo presenti sui principali social linkedin facebook instagram youtube quindi vi esortiamo a seguirci e vi saremmo estremamente gratis se voleste farci delle recensioni e su google e su trust pilot ne abbiamo oltre 200 su google e circa un'ottantina su trust pilot filippo ho finito c'è qualche domanda qui possiamo dar seguito già che ci siamo se tu vuoi dire qualcosa sono tutti orecchi allora la prima domanda è quale conto svizzero come frontaliere è più conveniente la risposta che vi posso dire è non vi posso consigliare una banca piuttosto che un'altra ci sono alcune soluzioni che sono più economiche cercate sempre di andare a prendere quella che costa meno leggete sempre le condizioni economiche del conto che a devono esservi fornite all'apertura o prima dell'apertura vi devono dire quanto costa la tenuta del conto quanto costa l'eventuale carta banco mat che potete avere o meno e soprattutto se ci sono delle agevolazioni del tipo fai versare lo stipendio oppure c'è una promozione particolare in corso che ti annulla ad esempio il costo di tenuta mensile informatevi c'è un'altra domanda che dice ci sono delle limitazioni con riferimento ai cambi che posso fare con cambiavalute allora si può cambiare per quella che è la legge fiduciaria fino a un massimo diciamo di 5.000 franchi senza che abbiate compilato quello che è il profilo cliente sostanzialmente quello che succede al baracchino se voi andate e cambiate più di 5.000 franchi vi devono chiedere tutta una serie di documenti noi in realtà una serie di documenti ve li chiediamo già prima se volete cambiare più di 5.000 franchi e quindi sbloccare il cambio e fare dei cambi più importanti da 8, 10.000 50.000 100.000 perché vi state trasferendo state comprando casa sapete quante casi abbiamo di persone che comprano casa e hanno necessità magari cambiare 50.000 franchi sono tantissimi ecco queste situazioni qui abbiamo necessità di avere qualche documento in più quello che io vi consiglio di fare è o seguite le istruzioni che ci sono sul sito oppure come abbiamo detto prima abbiamo Facebook Whatsapp la mail vi aiutiamo a compilare tutti i documenti giusto Filippo? assolutamente tenete presente ragazzi che una volta iscritti voi avete una sorta di area personale con i vostri dati i documenti a cui faceva riferimento Enrico che sono da firmare di fatto possono essere scaricati dalla vostra area riservata già precompilati abbiamo cercato di rendere il processo più agevole possibile noi comunque rispettiamo la legge però cerchiamo di aiutarvi dove e come possibile qui abbiamo le varie promozioni attive rispondo a un'altra domanda di Matteo se predispongo un cambio oggi di 1000 franchi non riesco a inviare i fondi eccetera eccetera poi i fondi vi arrivano più tardi questo è il senso rispondo io allora Matteo noi di default quindi standard offriamo il tasso di cambio che tu fissi con ciascuna richiesta valido fino al giorno bancario successivo esempio pratico inserisci la richiesta di cambio oggi il tasso che ti garantiamo con la richiesta di cambio ti sarà garantito fino a lunedì alle 19 ovvero tu hai tempo da oggi fino a lunedì per farci arrivare il denaro se il denaro che tu ci devi trasferire da cambiare ci arriva oltre le 19 di lunedì semplicemente noi in automatico adatteremo il tasso di cambio a quello che sarà quando riceveremo i tuoi fondi e ti invieremo comunque il denaro cambiato questo è giusto per farvi vedere che abbiamo appunto le varie abilitazioni da cambiisti ci sono comunque sul sito tutti i vari termini e le condizioni quindi qualunque cosa ecco io vi chiederei di contattarci di scriverci soprattutto se ci sono dubbi se non avete mai provato se avete la necessità di chiedere qualcosa ecco quello che vorrei sottolineare è che noi abbiamo uno staff estremamente qualificato persone che hanno lavorato nell'investment banking eccetera eccetera siamo assolutamente regolamentati quindi con le licenze necessarie paghiamo tutti quanti appunto l'iscrizione della legge fiduciaria e abbiamo anche una assicurazione quindi diciamo offriamo un servizio veramente di primissimo livello grazie a tutti